Ciao a tutti amici CDK, qui la vostra Askel che vi parla e vi dà il benvenuto nel video del 18 giugno dedicato ai giochi in uscita, ai giochi gratis e ai giochi scontati che si richiede a proporre oggi per noi. Se invece volete conoscermi meglio potete seguirmi sul mio canale principale di Twitch per i miei streaming oppure sul mio social e Instagram per i miei aggiornamenti, i link sono tutti quanti iscritti in descrizione. E nel mentre noi possiamo iniziare con la presentazione dei giochi di oggi. Il bellissimo gioco gratis free to play che presentiamo su Steam è Ox Must Die 2 che assolutamente dovete conoscere e provare se vi piacciono comunque i giochi di combattimento e anche fantasy ed è molto particolare quindi consiglio di scaricarlo e di giocarlo e nel caso fatemi sapere se vi è piaciuto. Invece il gioco gratis da ieri su Epic è Hell is Other Demons che sembra essere un gioco molto interessante soprattutto platform e io ho molto curioso di provarlo e di giocarlo quindi se siete curiosi anche voi mi raccomando riscattatelo perché rimarrà per sempre nella vostra libreria e dopo scopriremo un nuovo gioco gratis sempre su Epic. Nel mentre vi dico anche che free to play su Steam abbiamo Verdun che è un gioco che io non conoscevo ma mi sembra essere comunque un gioco di combattimento, un passantatelistico comunque di guerra. Quindi se vi piacciono i giochi del genere anche qui consigliatissimo di provarlo anche perché ripeto è gratis free to play quindi scaricatelo e giocatelo e divertitevi. E ora il secondo gioco gratis che sta dando Epic per questa settimana è Overcooked 2 io non vedevo l'ora di averlo perché ero molto attenzionata a comprare ma Epic è stato molto più rapido e quindi l'ha potuto dare gratis quindi è assolutamente consigliatissimo di riscattarlo e di giocarlo perché è strabello e forse lo porterò anche su Twitch. Invece per i giochi in uscita il 22 giugno uscirà Dangerous and Dragons Dark Allies a soli 23 euro circa ed è un prezzo già super scontato per un gioco molto interessante anche che sta per uscire e io adoro il mondo di Dangerous and Dragons e sono molto curiosa di provare questo gioco quindi nel caso comprattelo da noi. Invece il 22 giugno uscirà anche Super Magbot che anche qui è un gioco platform diciamo anche un po' puzzle game molto particolare anche qui sono molto curiosa di provarlo e anche questo gioco è già scontato sul nostro sito quindi se siete curiosi di giocarlo come al solito compratelo da noi perché trovate tutti i giochi scontati. Invece il 24 giugno uscirà un gioco che in molti stanno aspettando ed è Legend of Mana che diciamo che è un gioco RPG fantasy un po' vecchio stampo che tutti stavano aspettando e soprattutto già adesso è scontatissimo quindi non perdertelo mi raccomando perché sembra meritare tantissimo. Invece il 25 giugno uscirà Scarlet Nexus che è un gioco di cui mi dà molto le vibes di un soul worker però è comunque molto carino anche in stile giapponese e soprattutto anche questo nostro sito è scontato quindi siete curiosi di provare questo gioco assolutamente consigliato di prenderlo sul nostro sito e di controllare tutti gli altri giochi in uscita. Invece per i giochi super scontati abbiamo il nostro Cyberpunk 2077 a poco meno di 20€ e so che ha fatto un sacco di scalpore soprattutto per il fatto della quantità abnorme di glitch, bug e problemi ma vi assicuro che questo gioco merita tantissimo quindi consigliato di giocarlo. Altro giocone importantissimo è anche Death Stranding anche questo gioco diciamo è molto famoso per determinate cose però assolutamente consigliato sempre di giocarlo e di provarlo anche perché adesso è scontatissimo del 72% e costa poco meno di 17€ anche qui è un prezzo veramente basso e scontato. Invece altro giocone che assolutamente non potete non aver giocato è Doom Eternal a 10€ ed è strabello quindi consigliato perché a un pezzo del genere è letteralmente regalato e non lo troverete nessun'altra parte quindi consigliatissimo di comprare il nostro sito e di divertirvi su Doom Eternal perché davvero merita. Invece l'ultimo ma non meno importante a poco meno di 5€ abbiamo Soulcalibur 6 che anche qui il giocone è bellissimo che ho giocato anche in compagnia di amici davvero strabello e divertente quindi consigliatissimo. Invece noi con quest'ultimo gioco concludiamo il video di presentazione di oggi io vi ringrazio per aver visto questo video e noi ci vediamo nella prossima presentazione dei giochi oppure vi aspetto sul mio canale di Twitch. Alla prossima, ciao ciao!